Deve consumare tanta di quella energia che non va ai fini utili della corsa, cioè gli attriti interni sono pazzeschi, voi dovete averne niente di attriti interni, allora i muscoli dovete massaggiarli da soli e farli ballare così, che non si capisce cosa facciano, ma che fanno, forza tutto il giorno? E allora com'è? Capisco, tu che fai? Sempre pesi i pesi? Forza? E allora evidentemente i chilometri di corsa che fanno alla fine del ciclo sono insufficienti, assolutamente, perché non si può essere così in nessun modo, lui lo stesso, io avrei fatto vedere i muscoli degli atleti, e che non si può essere così in nessun modo.